Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio sulla FIPILI per lavori. Due chilometri di coda in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo Fiorentino e rallentamenti in direzione mare tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. Orsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!